Questa famosa challenge fermi Mi coloro il buffo Ragazzi 20.000 iscritti a tortello Cioè praticamente lo devo colorare per forza Lo devo colorare per forza Andata, andata Bene a tutti, belli e brutti ragazzoli Benvenuti in questo nuovo video Io sono il Tortellone Nazionale E quest'oggi ragazzi guardate che ospiti abbiamo Impazzisco Presentatemi giovani Allora io mi chiamo Crax E da circa 4 anni ragazzi faccio bene su Youtube Però riscuotendo poco successo Non è molto bene per questo Faccio una collaborazione con Tortello Tortello portami in ritenza al canale Ti prego, ti prego Io sono qui per lo stesso motivo Mi chiamo Nemo strattino basso twitch su Instagram E mi chiamo Per appunto Innalzare le visual del mio canale morto Bene, bene Ok dopo questa Mamma mia Allora dopo questa presentazione Avete capito tutti e due chi sono E io direi Banda le change ragazzi E andiamo a spaccare qualche chiappettina E andiamoci Via, via Banda le change Banda le change Mi faccio le No, non lo direi Ciancio le bande Dai, ciancio le bande Ciancio le bande Acci Mamma mia regà Stiamo a giocare qui veramente Quei 38 gradi Impazzisco Mandami a destra Mandami a destra Vabbè però Considera che La mappa è quella giusta Stiamo sulla spiaggia Mamma mia È un po' troppo giusta però Oh ragazzi Un po' ac Acidua Acidua Veramente Dato che Tortella non è ancora uno youtuber Ragazzi da lasciare il pollicione Tra l'altro quando lo chiesto Ma quanto meno scorto Quanto meno scorto Ma quanto son nabbo comunque Che figure Ragazzi racconta un bel pollicione Per Tortellozio Allora se facciamo quattro vittorie Cosa che non riuscire a fare Perché sono ammazzati Tortello si taglia la maglia al live Mamma mia Siamo in spiaggia Cioè Cartellino giallo Me la caccio La caccio veramente Impazzisco Ma stai a scherzare Veramente cartellino giallo No no basta E copri i capezzoli Ti devi mettere il nastro sui capezzoli Ma fa conto che c'è il pello sul petto Quindi No no ma a te non c'è il capezzoli È alieno Ma sono alieno Io comunque è vero regà Quello che ha detto Nehmo se io c'ho il capezzolo cieco Questa qui è un'altra piccola Un'altra piccola chicca Che non tutti sanno Poi son morto Non lo sapevo perché Storia 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 Diciamo ne ho Se l'ha visto nell'intima Tortello Oh ben Ben Oh se qualcuno ha stata ricerca del principe Si amai Ce l'avete qua C'era In bocca Ciò Fatti secondo me ora faccio uno spoiler Secondo me tortello non sta facendo youtube magari per Diciamo Avere un canale Bello Per cercare il successo su instagram Per il velo Per il velo Per il velo Stanno pure a fare veramente Facciamo serie Sto schifo di orso No no più che l'orso il problema è quello Planita Mangia Sorse Oh 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 Basta l'ultimo Basta l'ultimo Basta l'ultimo No no Basta l'ultimo No 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 Mi ho perso Peccato Peccato La raga solo per non vedere il capezzo Li fa conto Bravi Bravi Bravo Bravo Ci piaci Mamma mia Salvi ragazzi Siete salvi Vai 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 Concentrati Concentrati Voglio i capezzoni Di tolto No Meglio di no Allora Under Niso Oso Via Sì Concentrati Concentrati Dai che ciò Bene Bella la tortillas Mamma mia Mi devo motivare Mi devo motivare Per essere migliore Prendetene Sei meglio di così Mamma Spittatene La qualità Questi sono i miei missili Bim Ma questo è molto blasfemo Fratello Io non te la vorrei dire No È una cosa simpatica Dai No è tutto molto blasfemo Vabbè Dopo Dopo a nubi ragazzi Dopo a nubi Questo è un po' blasfemo Guarda nei video dell'altri Come fa oggi Ciao ragazzi Io sono Graz Un amico dei bimbi E via E' un anal Hai capito E' stato tutto un video Fa anal No in realtà Quello è un anal Lo ho caricato Lo so Ho caricato pure io Bellissimo Allora Io qui devo inizio a fare due hit Perché se no Non si può Eh ma non ci arriva Non c'è Possiamo vincere Dai possiamo vincere Siamo meglio di così Occhio boh Cioè io non Ma come sai che si mangia Come sai che si mangia boh Ercarion Ercan de sottofondo Allora Un pezzetto l'ho fatto esplode Io non ho cani ragazzi Un po' Che slicio Oh Bella nemmo Guardali 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 Hai visto come ho schivato qua la mano In mezzo ragazzi ci stanno le bombe Che ovviamente Gioco di mano Gioco da villano Salamone E così 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 Lo killa lo killa Allora mette qua il mortaglio Ragazzi abbiamo il cane che ci sta rifando Sì Sì Ma non è mai esistito Ma non è mai esistito Ma non è mai esistito Bim Va bene 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 Spregalo anche No non ho spregato l'ultima Secondo me è un ologramma comunque perché non è mai esistito Occhio zi Mamma mia E il nemossetto si fa le 400 Quindi dobbiamo vincere per forza Oh oh attenzione eh Attenzione Dai tu vittorio dai 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 Andiamo a star subito a baffo alla messicana Bluh 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 Ma mi faccio crescere Oh me lo sto a far crescere Fa quando Ma può darsi pure Addirittura lo vado a colorare A colorare Ma sei matto A tuo blu No 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 Nero nero Scurisco il nero Perché boh Tortè Faccio come il colombiano del retorno Ma che in me sta a dire questo Torè famo sta challenge fermi Ragazzi Mi coloro il baffo Ragazzi 20.000 iscritti a Tortello Cioè praticamente lo devo colorare per forza Non devo colorare per forza Ma regà ma lo devo fare per forza Cioè ma dove vado un giro con il baffo blu Che avevo messo per questo Per una settimana Per una settimana Ah va bene Va bene Va bene Tanto si dai Ragazzi il video dell'anno Però altro consiglio di Tortello da youtuber Devo chiederla eh No no taglia questa parte e mettila all'inizio Ah certo la richiesta la devo fare all'inizio 50% del pubblico se ne sarà andato a seconda Ah quindi ti stai di che sei uno sfigato eh Attenzione No 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 ma no Proprio funziona così youtube No 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 t'ha detto questo è uno sfigato L'ha detto L'ha detto Non c'è trattica perché voglio far fare le 400 mimos Eh Dai eh Voglio il baffo blu Oh mio dio non si sa Poi che Tortello non muoia No no infatti me ne vado Me ne vado dietro Bella Fidiamo sta zozza Fidiamo sta zozza Ha giampato malissimo tra l'altro aperto e muore Bene bene Ho colpito anche il Dano Mike Attenzione attenzione stiamo giocando bene Testa V testa Destra No Dov'hai Sotto di te Dov'hai? Sì mamma mia che kill Oh oh Io non ho Cioè non hai il mio rispetto dopo questa giocata Io ti odio Assurdo Ho rischiato la forza Sei un pazzo Sei un pazzo Attenti No mi ha preso Aspettate eh Ragazzi ho un'ansia Non mi rendete Bim Bim Oh mio dio Oh mio dio lì come l'ha truffato Fenomeno il Torti L'ha truffato eh Ma che struffa Tanti tu fermati Mamma mia Ulita Ulita Vai Bene 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 E questa è l'ultima Bella giocata Bella giocata Mi sono piaciuto Bravo Torti Bravo Torti Bravo Torti Bravo Torti Via via Oh 397 Si impazzisce eh Si impazzisce 4 di 6 Vai 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 Comunque ragazzi Cioè Tortello t'ha salvato la prima partita Quella persa T'ha salvato la campanella T'ha salvato la campanella Confitta Perché se no Non ve ne ricordate la scena T'ha salvato la campanella regà Questo che Aldo Aldo Giovanni Aldo Giovanni Sì sì ok Eh storia Eh ma questa è storia eh Eh ma il fatto è che Lo youtuber non ha tempo di vivere Il problema è che non vede la luce Non vede la luce Pensa a un padre youtuber streamer lavoratore Eh cioè praticamente niente Non dormi Non c'è tempo di mangiare Cioè E' una vitaccia E' una vitaccia Disse cacciavite Disse cacciavite Però comunque ci stanno sempre delle soddisfazioni Certo Ma è un po' Velegrax nudo Dopo quelli c'ho gusti Ognuno Eh un po' Questo come se stanno a chiudere Un po' E' una partita della vita No Qui ci giochiamo Mamma mia Allora Non c'è Ma che sta succedendo 1-0 No Ecco qua Vedizio Ammazzata Forse no Bravo Nema Prende la partita decisiva Così Giusto Immortaglio Mi gusta No dai 190 Assurdo Non ho ammazzato Nel meno Perché era max Ragazzi Eh Che sono Stessa Nasta Dovano a terni L'altro pure invisibile Sto schifo Sto senza nata Bella Chiuderemo E chiuderemo E chiuderemo E chiuderemo E chiuderemo Faffan Brodo No Non mi miscliccare Le 400 boys No Mi scliccate Mi scliccate O è richiamato È richiamato Quante stelle C'ha Ma non basta C'è due 26 secondi E che può andare giù No Lo chiamano 710 Ho la ultima Posso sfugarmi Con la ultima Io non ho quasi Arrivo No Aspetta Aspetta Che ne è finita Non mi è dire 10 14 Eh Niente Peccato Peccato Non fa niente Frate Ragazzi Vabbè 491 Leone Rischiato di perdere Peccato 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 Ragazzi Stop video Comunque Ragazzuoli Io direi che per questo video è tutto Ringrazio Grazie Ed emozione Per la partecipazione Vi ricordo Vi ricordo ragazzi Campanellina Un bel like Mi raccomando Condividete il video ragazzi Per veramente Restare sempre Connessi Con me Con il tortellone E nulla ragazzuoli Un bacione E al prossimo video Bella Bella 20.000 iscritti Baffi blu Ciao No No Eh Eh 1 Sous non Ho Sous Sous P occurred Saura Sous 1 간 Grazie.